Un nuovo calcio di punizione, sul pallone si trova Fabio Masciarelli numero 7, tira direttamente, Vete, 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 ha portato in vantaggio la Virtus Castelfrentano, Fabio Masciarelli numero 7, 3 a 2 per la Virtus Castelfrentano, Fabio viene festeggiato dai compagni di squadra, dalla panchina anche, 3 a 2 l'arbitro farà riprendere il gioco dalla squadra del Miglianico Faccio, 3 a 2 il risultato parziale in questo secondo tempo, adesso la panchina del Miglianico chiede il cambio. Ecco, ripresa del gol, 3 a 2 a favore della Virtus Castelfrentano.